Ciao Francesca, vediamo se Facebook va, ogni tanto fa qualche pizza in più, eccoci, giusto un secondo che abilito i commenti, anche su Facebook, ok, ci siamo, ciao Medea, Lodovica, giusto un minuto, ok, anche qui, ok, commenti abilitati. Allora, psicologia del motore, ciao, equilibrio, psicosessuale, azzurra, allora vedo che siamo una dozzina più gli utenti su Facebook. Allora, oggi parliamo delle domande che mi avete fatto sulla coppia, vi avevo invitato appunto a condividere i vostri pensieri, le vostre riflessioni e oggi proviamo a dare una risposta, non ho potuto selezionarle tutte, perché eravate in tanti, insomma, quindi ho ricevuto troppe domande rispetto a quella che avevo in testa per non fare una diretta troppo lunga, ne ho selezionate alcune, ciò vuol dire che le domande che avete fatto non sono andate perdute, anche se oggi non otterranno risposta, semplicemente otterranno risposta in un'altra occasione, farò un'altra diretta, a breve, qualche giorno, e darò una risposta a questa. Di contro, alcune domande che invece richiedono una rilaborazione ed una risposta un pochino più lunga riceveranno un video dedicato, quindi poi sia sulla pagina Instagram, Facebook o YouTube troverete la risposta, poi comunque nel momento in cui la pubblico vi faccio sapere. Nel frattempo, se qualcuno di voi ha delle domande, se le prepari, non me le scriva adesso perché poi i commenti mano a mano che arrivate spariscono e non riesco a visualizzarli, però se le tenga lì, perché se riusciamo a rispondere a tutte le domande che avete fatto, le 5 che ho selezionato, adesso ve le leggo in tempi non lunghissimi, magari poi lasciamo anche spazio a qualche domanda in diretta, così da integrare il discorso che abbiamo iniziato oggi. Allora, le domande principali che ho selezionato sono perché scelgo sempre lo stesso tipo di partner? Perché le relazioni extraconiugali in un qualche modo aiutano? Come mantenere l'interesse vivo nella coppia, anche con il passare del tempo? È normale provare gelosia sulla storia importante passata del partner? Sostanzialmente essere geloso dell'ex o degli ex? Si può recuperare un amore dove non c'è più fiducia, dove la fiducia è scomparsa? Allora, iniziamo dalla domanda di Paola che cita questo. Perché scelgo sempre lo stesso tipo di partner? Allora, qui se qualcuno ha già visto la diretta di settimana scorsa potrebbe già avere delle idee a riguardo del perché questo accade. Il presupposto importante è questo, che noi scegliamo sempre lo stesso tipo di partner in funzione delle credenze che noi abbiamo su noi stessi e sulla persona che poi andiamo a scegliere. Mi spiego meglio. Ognuno di noi, come mi avrete già sentito dire, racconta la propria storia di vita. Racconta a sé la propria storia di vita e racconta agli altri la propria storia di vita. Vuol dire che ognuno di noi costruisce la rappresentazione che ha di sé e la rappresentazione che ha del mondo sulla base delle proprie esperienze passate, sulle base del proprio presente, degli accadimenti della vita e sulla idea o sulle idee che gli piace avere, cioè sulle idee che lo affascinano, con le quali si identifica, con i valori che magari trova negli altri e che condivide. Quindi, dato questo calderone di informazioni in cui ci mettiamo le esperienze passate, chi siamo, degli aspetti personologici, le persone che abbiamo accanto, gli eventi della vita, eccetera, cerchiamo di tirare fuori la nostra rappresentazione, cerchiamo di tirare fuori il nostro copione. Questo è un termine pericoloso da utilizzare, però il concetto rende abbastanza bene l'idea. Che cosa succede? Succede che nel momento in cui noi creiamo il nostro copione, quindi abbiamo la nostra idea di come funzioniamo e anche di come dovremmo funzionare nel mondo, viviamo la nostra vita e compiamo progressivamente tutta una serie di aggiustamenti a questo copione e aggiustamenti alle motivazioni che lo rendono per noi interessante. Vuol dire che ciò che ci accade, quello che ci dicono le persone, ciò che gli altri restituiscono a noi come feedback di quello che è stato, di come ci percepiscono, di come ci trovano, se ci vedono interessanti o meno, noi lo aggiustiamo e siamo bravissimi a trovare delle motivazioni che in un qualche modo giustificano il perché in aree magari anche molto diverse della nostra vita e in cui noi agiamo comportamenti molto molto diversi, di fatto troviamo un trade union, troviamo qual è un elemento di link, di connessione appunto tra le diverse rappresentazioni che abbiamo di noi stessi. Perché ti dico questo? Perché di fatto nella relazione di coppia noi non facciamo altro che andare a cercare ciò che ben si incastra, quindi rimane in qualche modo coeso, al copione che abbiamo di noi stessi, ossia siccome io sono una persona di questo tipo, o meglio credo di esserlo, o meglio ancora mi piacerebbe esserlo o ci provo, allora vado a cercare una persona che si combina con me su quelli che sono gli aspetti secondo me più rilevanti, più importanti e al netto ovviamente anche di quello che l'altro offre, cioè delle caratteristiche che mi sembra di riscoprire nell'altro. Ovviamente questo ha tantissimo a che fare con l'idealizzazione dell'altro, ovviamente è facile capire come molte volte quando prendiamo un abbaglio all'interno della relazione ci rendiamo conto di come siamo stati noi a proiettare sull'altro ciò che volevamo vedere, ciò che secondo noi era importante trovare nell'altro, bene, glielo proiettiamo addosso. L'altro magari non ha queste caratteristiche però noi non sempre ce ne accorgiamo, o meglio non lo facciamo in tempi brevi. Superata questa fase o magari essendosi tutelati da essa, quindi non avendo sviluppato una qualche tipo di proiezione o meglio non troppo lontana dalla realtà o meglio da quello che l'altro effettivamente è, noi scegliamo il nostro partner. Quindi sulla base del nostro copione, sulla base delle nostre caratteristiche, troviamo una persona che ben si fa, ben si compone con noi. E questa persona ci può far star bene, ci può far star male. Ovviamente non vuol dire che quando noi troviamo qualcuno che riteniamo essere in linea con il nostro copione questo debba necessariamente farci star bene. Ci sono persone che sono convinte di meritarsi di star male, di non essere degne di amore, ci sono persone che sono convinte di non poter avere una storia sentimentale funzionale, appagante, pertanto andranno a cercare persone che appunto rispettano questo copione. Di contro ci sono altre persone che invece cercano con un'accezione positiva diversa una relazione di copia o di costruire una relazione di copia e quindi appunto cercano tutte queste caratteristiche nell'altro. Noi andiamo a trovare sempre lo stesso tipo di partner, sempre la stessa tipologia, perché siamo convinti che quel tipo di partner, quella tipologia di partner, ben si combini con il nostro copione. Qua sta la risposta. Che cosa vuol dire? Che poi nel momento in cui ci sbattiamo la testa una volta, ci sbattiamo la testa due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, iniziamo a modificare il copione, iniziamo a dire io vorrei questo tipo di partner ma ahimè sono sfortunato o sfortunata, vorrei questo tipo di relazione ma non esiste un uomo così, oppure devo abbassare le mie aspettative, devo cambiare, forse è meglio se rimango da solo o da sola, devo cercare qualcosa di diverso e quindi in quel caso, in quel momento, quando ci mettiamo a rimescolare tutto nuovamente nel calderone che vi ho detto prima, allora poi può essere che cambiamo, può essere che cerchiamo con partner diverso, può essere che modifichiamo le nostre aspettative. Però finché continuiamo a pensare che una persona rappresenti ciò che meglio si combina con noi o una tipologia di persona rappresenti ciò che meglio si combina con noi tendenzialmente cercheremo sempre questo tipo di persone, questo tipo di caratteristiche nel nostro partner, nella nostra relazione. Qui ci sono, sorgono, due tipi di possibilità. Uno, abbiamo ragione o meglio abbiamo una certa consapevolezza di noi stessi e quindi un copione che effettivamente ci possa far sentire sufficientemente bene, ma siamo sfortunati perché, o meglio, non siamo abbastanza attenti, acuti nel trovare o nel verificare se nell'altro queste caratteristiche sono presenti e quindi continuiamo a sbattere un po' con la mosca sul vetro, continuando ad instaurare delle relazioni che non sono per noi appaganti, anche se siamo davvero ben riusciti a mettere a fuoco ciò che ci serve, però magari non abbiamo delle abilità così fini nel capire se l'altro appunto ha queste caratteristiche di personalità, caratteriali, comportamentali e valoriali, oppure il secondo rischio, il secondo problema è che il copione che noi ci raccontiamo e quindi di contro la persona che ci aspettiamo possa completarlo è sbagliato, o meglio, noi troviamo il partner che secondo noi presenta le caratteristiche giuste, che ha tutto ciò che pensiamo possa ben combinarsi con ciò che cerchiamo, lo troviamo anche. Il problema è che poi quando lo troviamo non stiamo bene e allora lì non è un problema di partner ma è un problema del tipo di rappresentazione che noi abbiamo di noi stessi, dell'idea che noi abbiamo di noi stessi e di ciò che ci serve per poter star bene con noi stessi. Se partiamo dal presupposto che la relazione di coppia inevitabilmente soddisfa un bisogno individuale, il bisogno individuale principale è proprio quello di poter star bene, cioè di permetterci all'interno della coppia di stare bene. Quindi i rischi, cara Paola, quando mi chiedi perché scelgo sempre lo stesso tipo di partner, sono due. Sicuramente il preambolo, la premessa è che il tipo di partner tu lo scegli in funzione di ciò che credi servirti, quindi di ciò che secondo te ben si combina, si compone con te o con l'idea che tu hai di te. Il problema è che o trovi partner che non hanno queste caratteristiche, quindi non riesci ad identificare che cosa ti serve nel partner, non riesci a verificare se effettivamente quel partner ha quelle caratteristiche, oppure l'idea del partner che tu stai cercando non si combina bene, cioè è sbagliata di fatto per invece la tua felicità o ciò che tu vorresti essere o vorresti provare. Dalla tua domanda deduco, ecco poi ovviamente non ho la presunzione di interpretarla in maniera con retta perché sono poche righe, diciamo potrebbe proseguire così, perché scelgo sempre lo stesso tipo di partner che puntualmente non mi fa star bene, che puntualmente mi delude, che puntualmente suscita in me appunto delle esperienze o dei vissuti o delle emozioni negative. Per questo ti ho dato questo tipo di risposta, quindi lo scegliamo per le nostre convinzioni e poi di conseguenza sulla base delle valutazioni errate che diamo o delle caratteristiche del valore dell'altro o su ciò che pensiamo effettivamente possa farci bene. Seconda domanda, Sabrina. Sabrina chiede perché le relazioni extraconiugali in un qualche modo aiutano? Allora, è una domanda da un milione di dollari questa, perché apre letteralmente un mondo, la risposta potrebbe durare ora. Diciamo che quando parli, Sabrina, di extraconiugali mi immagino perché il tradimento, comunque perché la relazione extraconiugale in un qualche modo possa aiutare la coppia. Ora qui ci sarebbe da disambiguare se diventa d'aiuto nel perdurare della coppia, quindi nel continuare della coppia, cioè quindi una relazione extraconiugale che si va ad aggiungere alla coppia, oppure se è d'aiuto nell'andare a ristrutturare, ricontrattare ed eventualmente ricostruire una coppia in crisi. Ti rispondo ad entrambe, do degli accenni sia all'una che all'altra, all'altro aspetto, però devo fare un piccolo preambulo, una piccola premessa che riguarda innanzitutto i tipi di tradimento che possono essere presenti all'interno di una relazione e in secondis anche però i motivi che portano ad un tradimento piuttosto che appunto ad una relazione extraconiugale. Partiamo da quali sono le tipologie di tradimento, cerco di andare veloce in modo tale da arrivare rapidamente alla risposta alla tua domanda. Partiamo da qui, il tradimento è una cosa complessa, anche solo per le emozioni che suscita, è complicato, è complicato avere c'è che fare e può essere di diverse tipologie, può essere ad esempio un tradimento prettamente fisico, che è ciò a cui solitamente ci riferiamo nel momento in cui parliamo di tradimento, può essere un cosiddetto tradimento bianco, quindi un tradimento in cui c'è stato un flirt, c'è stata una relazione, ci sono state magari anche degli scambi emotivi relativamente intimi ma non è stato magari concluso con un atto fisico, un atto sessuale, le chat piuttosto che le video chat eccetera, insomma sono un ottimo strumento per i tradimenti bianchi, oppure c'è il tradimento morale, quindi un tradimento che in un qualche tipo viola o viene meno a quali sono i valori, i presupposti, le aspettative e i desideri della coppia, che però non ha nulla necessariamente a che fare con un aspetto emotivo, sentimentale e quindi poi di conseguenza fisico, intimo. Queste sono diciamo tre tipologie principali di tradimento, poi ci sono tutta una serie di sfumature, ci si potrebbe addentrare nei meandri del concetto di tradimento, però per darti una prima inquadratura, una prima inferminatura generale è sufficiente questo. Secondo aspetto, quali sono le motivazioni che generano un tradimento, quindi quali sono i motivi, i bisogni alla base di un comportamento appunto legato al tradimento, alla relazione extraponiugale. Questi possono essere non più tre, quattro, perché poi devo fare un breve distinguo sull'ultimo. Sicuramente ci sono la rabbia e la vendetta. No, scusami Alina, ma non posso accettarti nella diretta, perché sennò diventa una cosa lunghissima, ne organizziamo un'altra in futuro. Dicevo, ci sono diversi motivi. Il primo è la rabbia. La rabbia è rabbia e vendetta legata ad un sentimento ovviamente forte che proviamo nei confronti del nostro partner e che ci porta a dire ti tradisco per fartela pagare, ti tradisco per vendicarmi di te, ti tradisco perché mi hai fatto o mi stai facendo soffrire e ti ripago con la stessa moneta. Occhio per occhio, dente per dente. Ovviamente questo sentimento di rabbia e di vendetta non deve essere necessariamente legato al fatto che l'altro abbia agito un tradimento di alcun tipo, potrebbe semplicemente essere un tentativo, in psicologese si dice, di riorganizzare e ricontrattare il potere all'interno della coppia. Cioè io mi sento da te soggiogato, schiacciato, denigrato, umiliato su un qualche versante della nostra relazione, non sono capace di esprimerlo a parole e quindi agisco. Vedo che c'è online anche Alfonso. Ciao Alfonso, poi organizziamo una diretta anche con te. Alfonso Panella, grande terapeuta, poi lo presento più avanti sulla pagina. Mentre la seconda possibilità di tradimento, il secondo motivo è la compensazione, quindi potrebbe esserci una situazione in cui la relazione di coppia va bene, la relazione di coppia è appagante, soddisfacente, ma non su tutti i versanti, quindi ci sono dei picchi, delle cose molto verticali, cioè delle relazioni molto verticali che ci fanno stare benissimo con il partner, altre invece, altrettanto verticali, quindi altrettanto definite e concise, che fanno stare male. E quindi il tradimento può essere messo in atto nel tentativo di andare ad avere una relazione immanente, cioè una relazione coesa, nucleare, che è tutta e completa, è un uno. E quindi, ad esempio, io mi trovo benissimo col mio partner, però non abbiamo sesso, non facciamo sesso, non abbiamo dei rapporti sessuali soddisfacenti, oppure non riesco comunque ad esempio essere appagato o appagata all'interno dei nostri rapporti intimi, tradisco non per una nuova relazione sentimentale, ma per andare a colmare, quindi a compensare questa mancanza. Oppure il mio partner è perfetto dal punto di vista sentimentale, è un bravo genitore, è la persona con la quale voglio condividere la mia vita perché è affidabile, mi dà sicurezza, ha tutte le caratteristiche che cerco, però non riesce ad essere sufficientemente empatico, emotivo, non riesce ad ascoltarmi. Quindi la chat, il tradimento bianco di cui ho citato prima, diventa uno strumento in cui io trovo qualcuno che diventa il mio confidente, il mio amico o amica speciale, a cui vado a confessare e raccontare tutti i miei malumori e tutti i miei segreti e in qualche modo compenso tramite l'ascolto che ottengo appunto tramite la chat, la mancanza o le mancanze del mio partner. Questo è il tradimento per compensazione. Poi c'è il tradimento per libertà. Il tradimento per libertà ha a che fare con tutte quelle situazioni in cui la persona si sente bene all'interno della relazione nella grandissima maggioranza del tempo, è appagata, è soddisfatta, si sente unita, la persona magari mette in atto anche dei progetti, mette in atto degli obiettivi a lungo termine e lavora per andarli a raggiungere, però poi inizia a vivere una grande sensazione di soffocamento, di mancanza d'aria, si preoccupa, inizia a vedere la relazione da un lato come rassicurante, da un lato come accogliente, dall'altro come soffocante, dall'altro percepisce il peso di questa scelta esclusiva e quindi mette in atto un tradimento per libertà nel tentativo di, lo dico male però, prendere una boccata d'ossigeno, provare a respirare, allontanarsi dalle emozioni di calma piatta che in un qualche modo caratterizzano la sua relazione appunto definita stabile per riassaporare appunto lo svincolo della libertà, l'aspetto coraggioso del buttarsi verso l'ignoto. Ovviamente qui i motivi sono diversi, il tipo di relazione è diverso, poi su ognuno ovviamente ci sarebbero argomenti, i presupposti per andare ad approfondire. Il motivo numero quattro è legato all'egoismo, ovvero una situazione in cui l'altro, il tradito in questo caso, ha poco a che fare e che in un qualche modo riconduce il tradimento esclusivamente ad un bisogno individuale del traditore che rimane una monade all'interno della relazione, non entra in contatto, non entra in empatia, non ha nessun tratto in un qualche modo fusionale diciamo con l'altro, rimane scollegato, ne fa un utilizzo appunto egoistico della relazione, è solo un prendere e non andare e quindi poi il tradimento ha poco a che fare con le motivazioni pregresse che ho citato prima, ma sono appunto legato nient'altro che al soddisfacimento dei bisogni individuali. Questo ovviamente è un tradimento che ha poco a che fare con l'amore, ha poco a che fare con una relazione sentimentale, è un tradimento molto più legato appunto al soddisfacimento di un desiderio, un bisogno individuale che però già in quanto individuale non ha permesso alla persona di entrare in contatto diciamo con il proprio partner. Quindi tipologie di tradimento fisico, bianco, morale, motivazione del tradimento, rabbia, vendetta, compensazione, libertà, egoismo o monadismo. Ora per rispondere alla domanda di Sabrina, penso che in parte già io l'abbia fatto, il tradimento, la relazione extra agoneogale perché in un qualche modo è utile, perché in un qualche modo aiuta, perché nel momento in cui rientra in una di queste motivazioni e tu eventualmente traditore e voi coppia riuscite ad identificare quali siano state le motivazioni alla base, di fatto da un lato dà la possibilità nel momento in cui viene mantenuto e magari neanche confessato, di andare a colmare un qualche tipo di bisogno. Ad esempio il bisogno di vendetta, il bisogno di rabbia, perché nel momento in cui tradiamo il partner molte volte risulta essere sufficientemente appagante questo, cioè non c'è bisogno di andarlo a confessare, evolvere, comunicarlo ed altro. Anzi, molte persone che tradiscono per rabbia o per vendetta si sentono sufficientemente pagate dal sapere che hanno tradito per rabbia o per vendetta, quindi non comunicano, anzi sentono di amare ancora di più il partner. Dall'altro per compensazione assolve il bisogno di completezza e totalità della relazione, ciò che non ottengo con te lo ottengo con un'altra persona ma continuo la relazione con te, anzi anche qui migliora la mia relazione con te perché riesco a soddisfare tutti i miei bisogni. Libertà ovviamente per lo stesso principio ed egoismo, questo non aiuta, non aiuta in alcun modo la relazione. Anche qui quando dico che la relazione extra coniugale o tradimento aiuta non è un invito a tradire, ma all'interno di un argomento con un'accezione prettamente negativa e stereotipata come quella che ha il tradimento è anche bene vedere quali possono essere gli insegnamenti che ci portiamo a casa nell'affrontare una situazione di questo genere, motivo per cui appunto la domanda di Sabrina è molto 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 interessante, non vuol dire che il tradimento sia giusto, non vuol dire necessariamente che sia sbagliato, dipende da situazione a situazione, verosimilmente molto spesso lo è, ma porta con sé anche delle opportunità se vogliamo. Dall'altro, quindi nel momento in cui il tradimento non è vissuto individualmente ma è vissuto nella coppia, quindi poi il partner lo sa, il tradimento diventa uno strumento estremamente utile ed importante per ricontrattare la relazione, per dare una nuova opportunità potenziale, non sempre avviene così, molte relazioni si interrompono a seguito il tradimento, molte meno di quanto voi pensiate, alla coppia, quindi la coppia può mettersi a ricontrattare, ricondividere, ridecidere, capirsi, riscoprirsi, affrontare un momento di crisi dal quale uscire potenzialmente ancora più arricchito. Questo provate a pensarlo rispetto ad un tradimento bianco, cioè un tradimento bianco solitamente elimina o comunque riduce parecchio tutta quella parte di rabbia e umiliazione, non che non ci sia, però molto minore rispetto ad un tradimento fisico e quindi un tradimento bianco rende molto molto più evidente il bisogno che una persona ha, il traditore in questo caso, di manifestare appunto il suo disagio all'interno della relazione, di non essere in grado di farlo con le parole, con appunto un lavoro emotivo su se stesso e sull'altro e di mettere in atto un comportamento potenzialmente distruttivo, ok? Chiaro che qualunque tipo di tradimento mette la coppia a serio rischio appunto di terminare, insomma è verosimile che ogni persona tradita valuti molto molto bene e anche ogni traditore se continuare o meno la relazione, ok? In questo caso però un tradimento bianco rende molto più facile comprendere un aspetto fondamentale, cioè il tradimento porta con sé anche la possibilità alla coppia di ricontrattarsi, riscoprirsi, ricostruirsi e soprattutto nel momento in cui non è stato agito dal punto di vista fisico, permette sempre alla coppia di fare questo con delle probabilità di successo in termini di ricoesione e riunione maggiori. Quindi per rispondere in definitiva a Sabrina perché le relazioni extraconegali tradimenti aiutano o perché soddisfano un bisogno individuale che sono quelli legati alle quattro motivazioni che portano al tradimento che ti ho detto o perché nel momento in cui vengono affrontati all'interno delle coppie permettono di una ricontrattazione netta dalle basi, dalle fondamenta appunto che espone la coppia ad un rischio enorme appunto di interrompere la relazione ma molto spesso risulta essere anche l'unica via per andare a ricostruire qualcosa con efficace soddisfazione. Questo comunque è un argomento molto denso, complesso che richiederebbe ore per riuscire ad essere affrontato in maniera parzialmente esaustiva. Felicia chiede come mantenere l'interesse vivo nella coppia? Allora questa è una domanda diversa, questa è una coppia che verosimilmente ha piacere a stare insieme, può aver perso dello smalto, può aver perso la parte di brio, la monotonia è lì che bussa alla porta, la routine si fa sempre più monotona, sempre più stanca, priva appunto di quella componente di novità e di interesse e si rischia di progressivamente perdersi, c'è la sensazione che molti matrimoni finiscano, sì perché può essere finito l'amore, ma l'amore finisce nel momento in cui ci si perde, cioè ognuno in maniera molto individuale va sulla propria strada e progressivamente genera una deriva nella coppia, quindi genera un allontanamento progressivo tra i due partner che poi li porta appunto a separarsi. Come mantenere vivo l'interesse nella coppia? Ci sono due aspetti fondamentali secondo me da considerare, il primo è quello di riuscire a costruire degli obiettivi condivisi, cioè una coppia riesce a permanere tale nel momento in cui entrambe le persone sentono di avere un obiettivo in comune e l'obiettivo in comune è raggiunto o meglio viene provato insomma ad essere raggiunto da entrambi, cioè tramite il lavoro di entrambi, cioè io ho bisogno di raggiungere questo obiettivo di mio, tu hai bisogno di raggiungere questo obiettivo di tuo, il nostro obiettivo in quanto coppia diventa un obiettivo di coppia, però mi rendo conto che per raggiungerlo sia come individuo sia come coppia ho bisogno di te, non potrei farcela da solo o da sola e viceversa, questo è ciò che tiene in primo aspetto vivo sempre l'interesse all'interno della coppia. Ad esempio ragioniamo per opposti, le coppie di amanti molto spesso dopo una fase di eccitazione, di passione travolgente iniziale eccetera, perché finiscono? Perché sostanzialmente uno dei due, la versione più classica o banale diciamo è quella in cui uno dei due è sposato, fidanzato, comunque ha già un'altra famiglia mentre uno dei due amanti non lo è e quindi a quel punto quando ci si rende conto che gli obiettivi non sono condivisi, a differenza di quanto ci si dica con le parole ma nei fatti non risultano essere condivisi, uno dei due perde l'interesse, sta male ovviamente però perde l'interesse. La stessa cosa potrebbe essere invece contraria nel momento in cui entrambi hanno già delle relazioni ed entrambi hanno degli obiettivi condivisi che non sono quello di creare una nuova famiglia, di mantenere la propria, però avendo una relazione extraconiugale. Questo è un altro esempio. Oppure ci possono essere coppie che si uniscono attorno ad un ideale, ad un principio, ad un valore. Ad esempio banalmente l'idea del io voglio avere figli e tu no diventa un argomento per cui all'interno della coppia non si ha un progetto enorme anche dal punto di vista personale che risulta essere condiviso e quindi in quanto non condiviso porta o può portare alla fine di una relazione. Non vuol dire che tutte le coppie che o non possono avere figli o uno dei due partner non li vuole si debbano lasciare, ma devono passare da una ricontrattazione. Quindi uno dei due in un qualche modo deve poter condividere il punto di vista altrui. E quindi questo ci connette al secondo aspetto fondamentale nel mantenere vivo l'interesse all'interno della coppia, ossia sapere che tutto cambia, sapere che tutto cambierà, sapere che i presupposti, i valori, gli obiettivi, le aspettative, il partner e noi stessi cambierà, tutto cambierà. E prendere atto di questo ci permette di muoverci verso appunto l'accettazione di questo cambiamento. È ovvio che la persona con la quale stiamo non è la stessa che abbiamo conosciuto, appena passano due mesi, un anno, due anni, dieci anni, vent'anni non è più la stessa persona, è una persona diversa, una persona sulla quale noi sicuramente abbiamo un'impronta anche maggiore. Noi stessi non siamo la stessa persona, siamo cambiati, ci siamo trasformati. Diventare consapevoli, consci e aspettarsi e anche lavorare attivamente per governare questo cambiamento e non opporvisi, cioè quindi non contrastarlo ma governarlo, cavalcarlo, diventa uno dei modi fondamentali, una delle risorse della strategia fondamentali per mantenere l'interesse vivo all'interno della coppia. Quindi riepilogando, Felicia, primo riuscire ad avere degli obiettivi condivisi all'interno della coppia ed essere due disposti a rimodulare, ricontrattare, modificare questi obiettivi. C'è sapere che il cambiamento è inevitabile e che la scelta di coppia sta nel decidere di percorrere con l'altro ed affrontare con l'altro le sfide che o la vita ci mette davanti o che noi scegliamo per noi stessi. Questi sono i due aspetti secondo me fondamentali per mantenere vivo appunto l'interesse della coppia. Poi questi possono essere declinati in mille modi diversi, ovviamente dal punto di vista genitoriale, dal punto di vista familiare, dal punto di vista sessuale, lavorativo, eccetera. Domanda numero 4. Federica, è normale provare gelosia sulla storia importante passata del partner? Allora, questa è una domanda che mi viene fatta spesso. Sì, è assolutamente normale, Federica. Sì, è assolutamente normale in alcuni momenti della relazione, o meglio, questa sensazione di gelosia, di insicurezza legata alle relazioni precedenti del partner tu la provi, comunque ognuno di noi la prova. Nonostante in pochi lo dicano, è una cosa molto molto frequente. Innanzitutto perché nel momento in cui iniziamo una relazione, e questo è verosimilmente il momento non l'inizio-inizio, ma diciamo dopo qualche tempo che possono essere due, tre, quattro, sei mesi o un anno, dipende un po' dall'età, ovviamente, della coppia, quindi dei partner, diciamo, all'interno della coppia, provare una sensazione di questo genere è abbastanza frequente, poiché dopo la fase iniziale di, diciamo, eccitazione, passione, appunto, travolgimento reciproco, eccetera, passa, il turbinio passa, appunto, la bufera, e in un qualche modo si inizia a pensare anche al futuro, non solamente al qui e ora, e quindi questo inizia a, da un lato, rallentare appunto il trasporto e la passione, passione non in termini necessariamente dal punto di vista sessuale, passione complessiva, nel senso che ci adattiamo, ognuno di noi si adatta alle cose, quindi quando la passione passa non è necessariamente un dramma, ok, non è necessariamente un problema, fa parte del processo di attrattamento, ciò che ritrova, trovevamo come nuovo, esaltante, in un determinato periodo della vita, dopo che ci siamo esposti adesso a questo stimolo per x tempo, questa componente passa, rimane sicuramente un argomento interessante di valore, subentra l'altro, subentra, ad esempio, nell'affetto, subentra il tempo, la memoria, che sono cose altrettanto importanti, non vuol dire che la passione non deve esistere all'interno della coppia, anzi, la passione ovviamente quella sessuale deve esserci, come anche la passione dal punto di vista sentimentale ed emotivo, però si modifica, ok, quando avviene questa prima modifica all'interno della relazione, quindi si capisce che la relazione può essere qualcosa di più e si inizia a pensare e progettare il proprio futuro, allora lì è verosimile che si provi la sensazione di gelosia nei confronti del partner, o meglio, di gelosia nei confronti dell'ex, o della storia importante che il partner ha avuto. Questo ovviamente perché nel momento in cui ci componiamo con l'altro, cioè ci combiniamo insieme all'altro, iniziamo un po' quel balletto relazionale che ci dà l'opportunità, appunto, secondo la nostra volontà di muoverci in maniera coesa, muoverci in maniera coordinata, muoverci insieme verso appunto la costruzione di qualcosa. Quindi nel momento in cui ci rendiamo conto che l'ex è una figura ingombrante nella persona con cui noi stiamo, diventa un qualcosa di, appunto, di faticoso da gestire e su quale sicuramente ci troviamo a riflettere. L'ex può essere ingombrante per più motivi, può essere ingombrante su tutti perché è presente nella testa della persona che noi amiamo, ad esempio non necessariamente dal punto di vista sentimentale, ma magari dal punto di vista pratico perché ha dei figli, ad esempio, in comune, quindi non potrà mai essere completamente fuori dalla vita, oppure perché il nostro partner è comunque attratto, è comunque interessato, ha tenuto comunque uno spazio nella propria testa, occupato dalla sua storia precedente, o perché noi siamo estremamente sensibili, suscettibili in termini soprattutto di autostima, di considerazione di noi stessi e bisognosi di rassicurazione e conferma al punto che vediamo tutto come una minaccia e che ovviamente l'ex di turno, soprattutto nel momento in cui è stata una storia importante, inevitabilmente è una minaccia enorme da questo punto di vista. Quindi diciamo che l'ex può essere una minaccia per due motivi, o perché è presente nella testa del partner di cui è ex, o perché è presente nella nostra, che siamo alla ricerca di una qualche rassicurazione e conferma che evidentemente o non ci arriva, o che per noi non è sufficiente. Quello che dobbiamo fare è sicuramente svincolarci dall'idea del paragone. Che cosa vuol dire? Che è inevitabile fare dei confronti, questo lo facciamo sempre, quindi è anche altrettanto ipocrita dire che non li facciamo. I confronti li facciamo in continuazione, li facciamo tutti, è una cosa solitamente normale, ma non perché vogliamo necessariamente paragonare chi è meglio o chi è peggio, ma perché usiamo le nostre esperienze pregresse, di cui l'ex ovviamente ne è una, per interpretare il mondo, per interpretare le nostre relazioni, per interpretare la nostra vita. Quindi il paragone lo facciamo perché è ciò su cui possiamo fare riferimento, è ciò che possiamo usare per contrattare e valutare la nostra situazione, fa parte della nostra esperienza, della nostra storia, quindi non possiamo non fare il paragone, dipende ovviamente con che obiettivo questo paragone viene fatto. Quindi la cosa principale è non entrare, non tanto in paragone, ma non entrare in competizione con l'ex. Questo perché? Perché nel momento in cui io entro in competizione con l'ex genero sostanzialmente una serie di effetto valanga che ha principalmente tre esiti, ecco tre conseguenze abbastanza dolorose. Uno, mantengo vivo sicuramente nella testa del partner la relazione che ha avuto. Due, non creo un qualcosa di unico, ma creo solamente qualcosa in contrasto a. Cioè se io mantengo continuamente il confronto, il paragone attivo con l'ex nella mia relazione, la mia relazione non ha senso di esistere se non in funzione di quello che è stata la relazione precedente e quindi ovviamente attribuisco a questa relazione un significato maggiore rispetto a quella che viene dopo e questo è un altro rischio. Terzo, non faccio altro che un po' come l'onda fa sul bagnasciuga, cioè continuare a cancellare le tracce, non faccio altro che mantenendo questa relazione viva nella memoria, nella testa, andare a cancellare, andare a distruggere puntualmente una cosa ogni volta che costruisco. Quindi faccio un passettino, metto un mattoncino e poi puntualmente la memoria dell'ex, un mio paragone, un mio riportarlo all'interno della coppia, cancella ciò che è appena stato costruito. Quindi è un continuo ripartire da capo che diventa frustrante e che poi suscita la discussione, la tensione all'interno della coppia, che è poi anche il motivo per cui la coppia non sta bene, non si trova più e quindi si lascia, perché di fatto non ha costruito niente, se non il paragone con la relazione precedente. E quindi questo è un po' la risposta insomma che mi sento di darti Federica. Quindi sì, è assolutamente normale, è assolutamente anche possibile parlarne con il proprio compagno, il proprio partner e è un qualcosa che deve essere sicuramente gestito, ma non deve essere reso protagonista all'interno della relazione. Chiaro che nel momento in cui questo viene fatto da il partner, allora si deve capire perché il partner si comporta in questa maniera ai nostri confronti, nel momento in cui invece ti rendi conto che questa sensazione di insicurezza, di instabilità, di bisogno di conferma continua ad arrivare ad essere presente nella relazione, e anche quando mano a mano appunto la relazione procede, magari procede bene, allora qui diventa anche un tema prettamente individuale in cui è bene capire da dove nasce tutta questa insicurezza, da dove nasce questa verosimilmente bassa autostima, quali sono i principi o gli elementi di risonanza che ti impediscono di essere felice o di darti l'opportunità di essere felice all'interno della coppia. Ultima domanda, quella di Chiara, si può recuperare un amore dove non c'è più fiducia? Allora, altra bella domanda, cinque domande interessanti, poi mi dite cosa ne pensate. Chiara, sì, si può, è una cosa estremamente complicata, è una cosa molto difficile, affatto scontata, molte persone nel tentativo di recuperare la fiducia in realtà causano danni ben peggiori o, peggio ancora dei danni peggiori, si costringono ad una vita infelice non volendo abbandonare ciò che ormai però è andato, cioè ciò che è stato perso, e vivono nell'idea sbiadita della storia che è stata. Partiamo da capire che cos'è la fiducia, lo faccio con una piccola metafora che penso sia rappresentativa, a me quando è stata detta la prima volta che sono l'ascoltata mi ci sono ritrovato perché è abbastanza rappresentativa. La fiducia è un po' come un vaso di ceramica, si può rompere, è sufficientemente resistente ma è anche fragile e quando cade va in pezzi, cioè si distrugge, si frantuma. Può essere ricostruita proprio come il vaso di ceramica, c'è chi di questo fa un'arte, in Giappone c'è il kintsugi che è questa tecnica di riunire i vasi rotti tramite una colla con dell'oro, cioè nelle venature viene messo dell'oro in modo tale da non nascondere la spaccatura che c'è stata ma esaltarla poiché diventa un valore, cioè la frattura e poi la successiva ricomposizione, nella riunione diventano argomento di vanto, di vita, di verità all'interno della coppia. E il problema qual è? Che la fiducia si rompe, può essere persa, può essere ricostruita ma non possiamo continuare a frantumarla, cioè se questo vaso che poi abbiamo sistemato e abbiamo incollato, magari siamo stati sufficientemente giapponesi nel farlo e quindi è anche meglio di come era prima, casca di nuovo, allora a quel punto se avete rotto due volte lo stesso vaso sapete che è impossibile da rimettere a posto perché si generano le polveri, poiché il principio di spaccatura netta tipico della ceramica non c'è più, si frantuma, va in mille pezzi, le fratture sarebbero talmente tante, profonde, sparse su tutta la superficie che il lavoro di ricostruzione sarebbe impossibile. Questo è quello che succede, quindi la fiducia la si può perdere sì tendenzialmente una volta sola, questo non vuol dire che ognuno di voi ha un jolly per tradire la fiducia del partner, ok? questo assolutamente no, dico che a volte, non sempre, ma a volte è possibile ricostruire la fiducia nel momento in cui questa viene rotta. Innanzitutto per fare questo bisogna riuscire a capire qual è il nostro oro da inserire all'interno di queste venature. Su tutto sicuramente riuscire a capire quali sono le motivazioni di coppia e le motivazioni individuali che stanno alla base di non fiducia, ad esempio, come dicevo nella risposta di prima a Federica, ci potrebbero essere anche dei motivi individuali del non riuscire a fidarsi di qualcuno, ad esempio del proprio partner, e quindi in questo caso dobbiamo sicuramente riuscire a metterli a fuoco. Come? Ci potrebbero essere dei motivi legati alla storia di coppia, che non sono stati causa, meglio, della perdita o della rottura all'interno di questa fiducia. Diciamo che una volta che abbiamo messo a fuoco questi, l'aspetto primario, la prima cosa che dovrebbe essere fatta nel momento in cui si sceglie o si prova a recuperare la propria fiducia è togliersi assolutamente dalla testa l'idea fallace che recuperare la fiducia sia nient'altro che provare a ripristinare ciò che era, o meglio, togliersi dall'idea che tutto tornerà come prima. Questa è una cazzata, scusate la franchezza, ma non è affatto così. Non è neanche detto che debba tornare peggio di prima, ok? Cioè se noi lavoriamo sull'idea che ricostruire la fiducia sia far tornare tutto come prima, allora qui ci costringiamo a vivere nella versione sbiadita di ciò che era. Ricostruire, ritrovare la fiducia non ha nulla a che fare con il tornerà tutto come prima, tutto ha a che fare con il ci riscopriamo, ci ricostruiamo, ci riconosciamo e ci ridiamo l'opportunità di proseguire il nostro cammino insieme, ok? E questo cammino evidentemente se ci ha portato sulla via, sul precipizio della perdita della fiducia, evidentemente era un cammino sbagliato. Quindi è un cammino che deve essere riorganizzato, si deve tornare indietro e riprendere la cartina e decidere un nuovo sentiero, un nuovo direzione. Questo è quello che c'è da fare. Ricostruire la fiducia non vuol dire cercare di tenere insieme un Frankenstein relazionale, cioè cercare di vivere nel passato. Questa è una serie di conseguenze su cui dovremmo farci un webinar, per cui il rischio appunto è quello di costringersi all'infelicità nel tentativo di provare a recuperare ciò che è stato. No, non dobbiamo fare questo, dobbiamo passare dalla ricostruzione. La ricostruzione è innanzitutto capire le motivazioni come ho detto, ma mettersi in una condizione di ascolto, di comprensione dell'altro e aspettarsi che l'altro faccia lo stesso con noi in cui parliamo dei nostri bisogni e del nostro egoismo. Egoismo nella misura in cui siamo capaci di condividere con l'altro le nostre bassezze, i nostri errori, le nostre colpe, senza aspettare che l'altro ci perdoni o che l'altro ci capisca, ma sforzandoci di essere il più trasparenti possibili. Deve l'altro poter essere sufficientemente conscio, sufficientemente consapevole di ciò che siamo, di ciò che è stato fatto e del perché ci troviamo in questa situazione. E deve poter farlo stesso con voi, deve poter farsi lo stesso, ovviamente viceversa. E trovare ascolto. Ascolto non vuol dire accettazione, nel senso che poi di contro ciò che troviamo, ciò che poi noi presentiamo all'altro non per forza deve essere accettato, non per forza deve essere condiviso, potrebbe essere compreso, ma magari non perdonato, non superato o magari non potrebbe essere più di interesse, potrebbe non piacere all'altro. Ciò su cui noi ci dobbiamo concentrare, in questi casi, nel ricostruire la fiducia, non è mai cercare l'accettazione dell'altro o la comprensione dell'altro, quanto metterci, mettere tutte le energie che abbiamo sul farci capire. Cioè capire in termini di mi presento, ti dico effettivamente che cosa c'è, cioè vado sotto, il più sotto possibile alla superficie, sotto tanto quanto magari io con me stesso non ho mai fatto, al punto da farti vedere esattamente ciò che sono e poi lì sperare che l'altro ci accetti, non chiedere o vendere qualcosa che è impossibile. Ad esempio, tutto tornerà come prima, no? Siamo in una situazione molto stretta, siamo in una situazione molto complicata, lavorerò, lavoreremo se vorrai, per ricostruire qualcosa. Il dover ricostruire non avrà nulla a che fare con il passato, ricostruire sarà semplicemente iniziare una nuova vita, cioè avere qualcosa di nuovo. Così viene ricostruita, la fiducia viene recuperata, o meglio viene fondata, nel senso che si appunto, come dicevo prima con la metafora del precipizio, il sentiero ci ha portato filli fin davanti al burrone, poi magari ci siamo anche caduti dentro, evidentemente era il sentiero sbagliato, quindi dobbiamo scegliere se è stato solo il sentiero o se era anche il compagno del viaggio, ma il compagno del viaggio in questo caso deve essere sufficientemente trasparente con se stesso e con l'altro per presentarsi, farsi vedere e riconoscere, noi dobbiamo fare lo stesso e da lì darci l'opportunità di risceglierci, così si ricostruisce la fiducia. È chiaro che per fare questo un lavoro di terapia, soprattutto un lavoro di terapia di coppia, è una buona idea, non è indispensabile in una condizione sine qua non, ma è una possibilità, uno strumento di più, è una risorsa. Questo è quanto? Queste sono le cinque domande a cui volevo rispondere oggi, spero che vi sia stato utile, ho visto che nel frattempo qualcuno commentava, un po' complicato riuscire a fare tutto, nel senso che tra le dirette che sono state avviate e le domande che arrivano faccio fatica ovviamente a leggere tutto, a volte magari quando ho fatto delle pause perché stavo leggendo quello che mi scrivete sotto. Facciamo così, io ho ancora quattro minuti, alle 15 devo staccare e il primo che mi fa una domanda gli rispondo, così a bruciapelo se volete, ecco quattro minuti li ho ancora. Vediamo. Allora, nel frattempo, grazie a voi, Orangius, grazie a te di essere stata qui fino alla fine, Annalisa, Azzurra, Daniela, Roberta, Demetra, grazie, grazie a voi per aver visto, eseguito la nostra diretta. Allora, Flo Chan, è stata la prima, chiede, si esce dalla dipendenza affettiva, poi ne stanno arrivando altri, ragazzi tenetevele per la prossima volta, farò una nuova, una storia in cui chiedo di condividere le vostre domande, così le raccolgo nuovamente, ne ho qualcuno ovviamente dalla storia passata, piano piano vi prometto che vi rispondo. Adesso posso rispondere a Flo Chan, eccola qua, si esce dalla dipendenza affettiva? Sì, si esce assolutamente dalla dipendenza affettiva, ci sono diverse tipologie di dipendenza affettiva, ci sono diverse ragioni che generano la dipendenza affettiva e diverse forme di dipendenza affettiva. Se vai sulla mia pagina Instagram, vedi che ho fatto proprio una sezione dedicata alla dipendenza affettiva dove analizzo tutto questo. Diciamo che, per rispondere in maniera veloce ma difficilmente esaustiva, la dipendenza affettiva è prima di tutto una malcredenza rispetto ai propri bisogni, rispetto alle proprie aspettative. Come rispondevo nella prima domanda, cioè perché mi rimetto sempre con lo stesso tipo di partner, è la domanda potenzialmente di un dipendente affettivo, cioè vuol dire che perché vado a replicare continuamente questo copione. Vai a replicare questo copione perché questo copione non è legato al partner o non è colpa del partner, ma è legato a ciò che tu vai cercando e la condizione di, in questo caso, dipendenza che vai ad instaurare. Quindi poi verosimilmente trovi qualcuno che, la combinazione perfetta sarebbe un narcisista, suscita in te l'esacerbarsi di questa dipendenza affettiva. Per superare la dipendenza affettiva bisogna riuscire effettivamente a mettere in conto che cosa ci interessa ottenere, che cosa ci serve ottenere per poter star bene e per fare questo dobbiamo essere in grado soprattutto di vedere quali sono le nostre paure, di riuscire a capire quali sono i nostri vincoli, i nostri limiti, perché così facendo diamo innanzitutto la risposta al perché ci infiliamo in relazioni di questo tipo. Perché a quel punto, una volta che conosciamo i perché, sappiamo anche i perché, no? Cioè sappiamo esattamente i perché dovremmo stare lontano da qualcuno di questo tipo e perché dobbiamo andare a muoverci in una direzione potenzialmente opposta e cosa andare quindi a cercare in una nuova relazione. Ok, so che non è stata esaustiva, però se arrivi a quella sezione della pagina troverai un sacco di video, di spunti e di approfondimenti al riguardo. Basta, alla prossima, grazie a tutti e buona domenica. Grazie a tutti.